48, Cristiana e Amina interpretano Tullio e Miguel da El Dorado Non sono proprio adatto io a diventare un nuovo Dio Non assomiglio neanche a occhio di Dio Ma di cosa stai parlando? Sono ancora qui In giro più neve Non può certo accadere meglio di così Più di così, più di così, più di così Oh mio Dio! È duro fare il Dio cosannato dal Corpeo E questa è la loro glorità Una vera devozione che non finisce qua È piuttosto imparazzante questa mia comodità Non posso dire male, devo proprio accettare Mi dicono, sei un Dio, io lo sarò Sì, 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 sì È il Dorado e voilà Grazie Non portiamo l'ospitalità Ma lo paremmo come lo paremmo come lo siamo Oramai è duro fare il Dio Ma basta avere un po' di brio Basta un gesto, sì! Mi hai convinto? Non diamo vera devozione Una leggenda Siamo noi Basta entrare nella parte E la gente esulterà Sembreremo veri portali Siamo sola naturale È vero I due nuovi dei già sono qua Sono qua Grazie alle ragazze di Eldorado Bene, 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 bene